Siamo qui con Fabio Vivarelli, allora con te si è creato un po' un percorso qui all'interno del Ginger, nel senso che ci siamo conosciuti, abbiamo fatto tante e tante chiacchierate, belle seratine, fondamentalmente poi c'è stata l'idea di proporre degli incontri, degli incontri che andassero a essere naturalmente un happening musicale, con vari momenti musicali, però anche è uscito fuori qualcosa di altro, un po' questo anche per la tua esperienza che hai con la Soka Kakkai, con il buddismo, raccontaci un po' qualcosa. Io sono venuto da Andrea perché pratico buddismo, faccio parte del gruppo giovani della Soka Kakkai, l'istituto buddista italiano Soka Kakkai e abbiamo cercato questo abbinamento tra momenti in cui era possibile confrontarsi, parlare di buddismo e di anche altre realtà qui sul territorio, però allo stesso tempo abbiamo cercato di creare dei momenti musicali. Creare un dialogo e non perché ti vogliono... questa parola del dialogo mi viene in mente qualcosa. Sì, creare il dialogo, viene in mente che la prima iniziativa che abbiamo fatto è stata lo scorso luglio dove all'interno della manifestazione dello Scandinci My Night abbiamo proposto una serata dove abbiamo presentato il libro del filosofo Daisaku Ikeda, presidente della Soka Kakkai a livello internazionale, appunto Daisaku Ikeda maestro di dialogo, seguito poi dal concerto degli amici di Passo Gigante, insomma che hanno animato la serata con musica... L'ottimo funk, soul... Assolutamente... Poi questo è un percorso che è un po' continuato, purtroppo abbiamo poco tempo un po' in questa teatro studio. Anche quello è stato un buon momento, no? Ottimo, direi perché 290 persone qui dentro e meno le potevamo mettere. Quindi abbiamo portato lo spirito del Ginger nel teatro e l'incontro a detta di tutti è andato bene, è stato un modo per conoscere ragazzi anche di altre associazioni su Scandicci con i quali ancora non avevamo avuto modo di organizzare niente e questo ha lanciato l'idea di comunque continuare questi eventi in collaborazione anche con queste altre associazioni che hanno collaborato con noi al teatro studio e perché no a breve, insomma già fin dalla prossima, da questa estate, quindi tra pochi mesi. Infatti speriamo quest'estate di sfruttare di nuovo lo spazio qui fuori per creare un bel movimento. Va bene, ok Fabio ti ringrazio, se vuoi fare un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Ciao, grazie, a presto.